Mirabili perché sono state due settimane dove c'è stato un elemento centrale nell'agenda degli italiani, un aspetto che ha centralizzato l'informazione, ha centralizzato la politica, ha centralizzato il costume, cioè è stata una di quelle settimane caratterizzate da degli eventi primari. L'agenda dei media, l'agenda sociale, si è conglobata. Cioè l'attenzione era concentrata su questi due eventi. Era concentrata su un suo evento che poi è stato molto raccontato, spettacolarizzato, personalizzato. Quindi insomma eventi della modernità, anche le elezioni di un Presidente della Repubblica, sono diventati dei fenomeni mediatici, puoi dirlo qui all'interno della Sette. Ricordiamo insomma anche gli ascolti, i nostri ascolti, nostri della Varadona Mentana, certo. Questo è diventato un fenomeno e poi dimostrano come la televisione comunque questi due eventi che ci sono stati appunto quelli di cui abbiamo parlato Sanremo da una parte e l'intervista di Fabio Fazio, del Papa Fabio Fazio, un sacro e profano, dove forse il sacro però è Sanremo, in questo caso il più profano potrebbe essere l'intervista del Papa. Perché insomma sappiamo che Sanremo ha la capacità di essere visto, letto e interpretato come una cartina di torna sole della società italiana, dei tempi, dei modi. E Sanremo in una battuta dal suo punto di vista che cosa rappresenta? Dalla parte diciamo del pubblico, no? Rispetto a questi ascolti, a questa attenzione costante. Io devo dire che sono uno dei pochi che non ama particolarmente Sanremo, però mi rendo conto che è diventato uno dei grandi riti collettivi, è stato forse uno dei primi riti collettivi. La società moderna si basano su questi riti collettivi, ci sono la finale dei mondiali di calcio, le finali elettorali, le elezioni, il presidente. E Sanremo è quello dove si rispecchia. Vorrei ricordare che nel 1995 sul palco di Sanremo c'è andata una delegazione di parlamentari che cantava e raccoglie tutto. Ha questa grande capacità di raccogliere un po' tutti gli elementi, il vecchio e il nuovo appunto. C'erano i giovanissimi ma insieme c'era Orietta Berti. Di intercettare anche delle tematiche. C'era stata la famosa contestazione a Crozza quando parlò su Berlusconi. Da questo punto di vista è un po' un ritratto dell'Italia. Sappiamo che l'Italia... È una vetrina fedele? No, forse sul lungo periodo sì. Nel senso che se vediamo i Sanremo degli anni 60, per alcune cose sì. Però sappiamo che l'Italia degli anni 60 non era solo quella del palco dell'Ariston. C'era ben altro dietro. Quindi è una vetrina spettacolarizzata, è una vetrina che funziona per il consumo, per l'ascolto. Però l'Italia è un'altra cosa. Volevo sentire su questo Alessandra Ghisleri.